Noi come azienda dobbiamo dire che perlomeno dare una comunicazione se è possibile corretta alla gente, nel senso che questa azienda sta monitorando questo territorio in maniera costante e sistematica dal 2011, monitorando sia la presenza di alimenti, sia le verdure, la frutta, tutte quelle cose che sono mangiabili. Inoltre facciamo i controlli delle acque, anche dei pozzi irrigui, quindi non delle acque potabili, perché quelle sono sicuramente indenni, ma anche dei pozzi irrigui per capire dov'è il livello di inquinamento e com'è il livello di inquinamento. Quindi dalle analisi che abbiamo fatte, le abbiamo fatte nel 2011, le abbiamo ripetute nel 2014, e le stiamo facendo sistematicamente e controlliamo sistematicamente questo, emerge che non ci sono valori particolarmente allarmati, ma ci sono valori presenti ormai comunemente, soprattutto medagli pesanti, in tutti i nostri territori. Al momento possiamo dire che non c'è alcun rischio per la salute per quanto riguarda i nostri concittadini, ma a partire da lunedì nella riunione fra le istituzioni che terremo in comune, vedremo tutti quanti i percorsi di approfondimento, di analisi, di studio da fare per poter avere dei dati più certificati e in modo da poter poi assumere le decisioni conseguenti, anche se dovessero essere prudenziali rispetto a quello che risulta. I dati che abbiamo di ARPA, di ASLA, sono dati che appunto non provocano problemi assolutamente, ma se dalle ulteriori indagini che faremo sul prodotto e non soltanto appunto sul frutto, vedremo che ci sono da prendere delle decisioni anche restrittive, lo faremo naturalmente.